Eccoci qui ragazzi, benvenuti in questo nuovo webinar dove sono in compagnia di due ospiti che sicuramente conoscerete, Sergio e Matteo. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Ciao Ali, ciao ragazzi. E me fa salutare. C'è ragione, scusa, mi sono portato avanti. Oggi parleremo della professione dell'analista tecnico e nel dettaglio andremo a vedere chi è, che cosa fa e soprattutto quanto guadagna un analista tecnico finanziario. Si sente sempre parlare spesso di analisi tecnica, tutti che buttano righe a casa sui grafici, ma in realtà l'analisi tecnica è ben altro. È una professione, come tutte le professioni, ad esempio l'avvocato non la si impara con un giorno, non la si impara con un video su YouTube, ma ci vuole A, del tempo, B, dei contenuti fatti bene, preparati bene, dei percorsi formativi ad hoc per diventare analisti tecnici e soprattutto dei docenti che siano prima di tutto preparati, sia a livello tecnico ma anche poi a livello pratico. E quindi oggi ci focalizzeremo proprio nel dettaglio della professione dell'analista tecnico. Partiremo però, questo è proprio il programma del giorno, con la situazione attuale del mercato del lavoro, poi vedremo il problema principale del mercato del lavoro, ma proprio due minuti per fare una panoramica. E infine poi entreremo appunto dentro la professione dell'analista tecnico finanziario, vediamo anche le opportunità lavorative che può avere un analista tecnico finanziario, quindi non solo quanto guadagna, ma come e dove può andare a lavorare. E infine vi presenteremo il nostro master per diventare analisti tecnici e finanziari e prendere delle certificazioni importanti, se a livello nazionale ma anche internazionale, non vi anticipo altro perché poi ve lo spiego tutto quanto nel dettaglio durante questa live. Siete pronti ragazzi? Pronti, sempre. Bravi, bravi, dei trader devono essere sempre pronti. Allora cominciamo, vi faccio io prima una panoramica del mercato del lavoro, poi dopo lascerò parlare Sergio e Matteo, che vi spiegheranno un po' tutto nel dettaglio, vi farò le domande mirate che un po' magari anche a casa vi state chiedendo, vi siete sempre chiesti. Cominciamo dalla panoramica del mercato del lavoro, oggi tratteremo questo webinar, lo prenderemo da un'angolatura più a livello professionale, ci avete visto e sentito parlare spesso di trading a livello più tecnico, di strategie, oggi vediamo più il tema professionale, quindi farlo proprio di professione, l'analista tecnico finanziario. Quindi partiamo dal mercato del lavoro, in Italia meno 3%, la crescita dei salari dal 1990 al 2020, quindi 30 anni di niente assoluto, 30 anni sono tanti ragazzi, soprattutto se ne andiamo a confrontare con quello che è successo nel resto d'Europa, dove la Spagna ha fatto più 6%, i salari sono cresciuti del 6%, Austria 25%, Grecia 30%, Francia 31%, Germania 33%, Svezia 63% e Irlanda più 85%. Quindi vediamo che questi fonte Oxe, vediamo come in Italia siamo veramente il fanalino di coda dell'Europa, e siamo rimasti veramente indietro e probabilmente non ce lo meritiamo, o meglio, se ce lo meritiamo, però come economia siamo la settima economia del mondo, più o meno sesta settima economia del mondo, non meritiamo veramente di essere a livello di salari in questa posizione, dietro a tutti, non è assolutamente fattibile per quello che siamo e quello che abbiamo fatto negli anni. Quindi andiamo a vedere un attimo perché siamo arrivati a questo punto, i problemi principali sono diversi, la disoccupazione, stipendi netti troppo bassi, bassa crescita dei salari, scarse competenze digitali che hanno un impatto ovviamente negativo, e soprattutto piattaforme e università, piattaforme online di formazione e università che si sono rivelate un po' inadeguate per quello che ricerca il mercato. Disoccupazione italiana, siamo sopra, poco sopra all'8%, Fonte e Istat ancora non abbiamo recuperato dai livelli pre-crisi del 2009, sono passati 12-13 anni e siamo ancora sopra, mentre invece insomma il resto del mondo ha migliorato in maniera netta questo dato, anche se siamo passati, insomma abbiamo sfiorato il 14% nel 2015. Siamo comunque molto indietro al lato disoccupazione, la disoccupazione giovanile in Italia era capricciante, siamo al 25% e se la vediamo anche solo 6-7 anni fa eravamo quasi al 45%, quindi quasi un giovane su due era a casa disoccupato. Anche qui siamo comunque lontani sotto i livelli pre-crisi finanziaria del 2009, dove il livello era al 20%. Imbarazzante anche il livello, la percentuale di studenti, di giovani, tra 15-29 anni o 20-24 anni che in Italia non lavorano ma neanche provano a studiare. Cioè non studiano e non lavorano, non fanno niente, non so che cosa fanno se guardano Netflix e giocano alla Playstation, non ne ho idea, però di fatto non fanno niente. Il percentuale è decisamente superiore alla media OXE del 13,9% per quanto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, qui siamo quasi al doppio, tra i 20 e i 24 anni la media europea è il 17,3%, mentre invece noi siamo al 31,3%, quindi dei numeri veramente incredibili per un paese come l'Italia. Gli stipendi estremamente bassi, in Italia questi sono stipendi netti, 21.400 euro contro una media europea di 24.000 euro netti l'anno. Crescita dei salari, bassissima, siamo praticamente sempre stati negli ultimi 30 anni, in prossimità dello zero, comunque su livelli anche inferiori all'inflazione che ci hanno portato dove siamo. Il problema delle università, manca ovviamente, va bene il mercato del lavoro, ma anche l'università ha le sue responsabilità, mancano le professioni più moderne, quelle più ricercate nel mondo soprattutto tecnologico, business, finance, insomma ci sono tante, noi parliamo del nostro settore, ci sono tantissime richieste di lavoro per alcune figure professionali, ma che non vengono adeguatamente preparate a livello universitario. Le lezioni, si lamentano gli studenti che le lezioni sono troppo teoriche dell'università, quindi mancano di pratica, i costi sono troppo alti e soprattutto gli stipendi post laurea sono troppo bassi, perlomeno per quelle professioni più tradizionali. Motivi dell'abbandono universitario, dati, ci dicono che molte persone abbandonano perché le spese universitarie o di mantenimento sono troppo alte, oppure perché non sono soddisfatti degli sbocchi professionali dopo il corso. Questi sono i costi medi, chiaramente, per una triennale, 27 mila euro, 45 mila euro invece per una laurea magistrale, ovviamente comprendono anche le spese di affitto della casa, dei trasporti, quindi tutto quello che è collegato al mondo degli studi universitari. Qui ce lo dice anche Lambur, ci dice che l'offerta dei corsi di laurea è estremamente teorica, quindi ovviamente non va bene, soprattutto in un mondo che richiede tantissime competenze pratiche. E poi qui gli stipendi, ad un anno dalla fine degli studi, dopo il diploma, 1.050 euro, dopo la laurea triennale, 1.104, dopo la laurea magistrale, 1.153. È chiaro che con questi dati le persone sono, anche i ragazzi, sono un po' sfiduciati, no? Quindi lauree di università troppo teoriche, disoccupazione alta, si fa fatica a trovare lavoro e quando lo si trova, le persone vengono anche pagate poco. Le piattaforme online un po' hanno migliorato il problema dell'università, ma sono ancora poco professionalizzanti, i settori sono ancora troppo tradizionali. Mancano un po' quelle figure un po' più moderne e soprattutto più pagate, perché gli stipendi medi fanno una media, ma ci sono ovviamente tante figure, soprattutto per quelle professioni più generiche, dove sono richieste meno competenze specifiche, dove c'è più concorrenza, lì, ovviamente con la disoccupazione alta, i salari si livellano verso il basso, verso il livello di sussistenza. Per tutte quelle professioni invece dove sono richieste maggiori specializzazioni, e ci sono meno persone con quelle specializzazioni, ma c'è dall'altra parte anche un'elevata richiesta di lavoro, allora lì sì che le risorse, le persone sono importanti e gli stipendi e salari tendono ad aumentare. Comunque la persona ha più facilità nel trovare lavoro, contrattare anche uno stipendio invece che al ribasso al rialzo. Quindi, ecco, manca un po' questo nel mondo del lavoro attuale. Andiamo a vedere allora adesso la professione dell'analista tecnico, perché è indubbiamente una professione interessante, che può dare degli sbocchi lavorativi sia a livello personale, quindi per chi vuole mettersi in proprio o vuole avviare magari una propria carriera, o da analista indipendente, piuttosto che da trader indipendente, ma anche per chi vuole andare a lavorare per altre società, non tanto in Italia, ma quanto soprattutto all'estero. Quindi andremo a vedere anche un po', oltre quello che fa l'analista tecnico nel dettaglio, andremo a vedere anche quelli che sono i salari in Italia, piuttosto che all'estero, e alcune posizioni lavorative che vanno a richiedere, le certificazioni che anche lì possono richiedere, le persone possono prendere per aumentare il proprio livello, il proprio valore, e sul mercato, e poi vi presenteremo il master analista tecnico. Io adesso dopo questa breve presentazione mi taccio, faccio parlare due trader e analisti tecnici, Matteo e Sergio, e comincio un po', parto da Matteo, che è il primo che si trova più in alto, al piano di sopra, e ti chiedo, Matt, spiegaci un po', brevemente, la professione dell'analista tecnico, chi è l'analista tecnico e soprattutto che cosa fa realmente, non chi fa gli scarabocchi a caso su internet, quelli non sono analisti tecnici, dici veramente lato professionale, chi è e cosa fa. Allora, l'analista tecnico è, prima di tutto, un professionista che si è dovuto formare in maniera importante, quindi come hai detto tu, non basta seguire un video su internet, non lo si impara nell'arco di un paio di settimane, ecco, è un professionista, e questo bisogna sottolinearlo, che si occupa di, utilizzando appunto varie tipologie d'analisi che si imparano appunto nel corso della formazione, di analizzare asset, grafici di asset, che possono spaziare da i più tradizionali, quindi strumenti e prodotti tradizionali, parliamo del mercato azionario, piuttosto che il mercato obbligazionario, quanto anche asset più recenti, quindi parliamo di, ad esempio, il mercato cripto. Quindi, per riassumere un po' il concetto, l'analista tecnico è quel professionista che ha le competenze per poter analizzare a livello di prezzi un asset e quindi di conseguenza può apportare beneficio a se stesso applicandoci sopra un approccio strategico e quindi utilizzando l'analisi tecnica, tradando con propri capitali, oppure può mettere a disposizione le sue analisi e le sue competenze eventualmente le aziende terze che hanno bisogno di avere un'analisi precisa e corretta di quegli asset. Anche qui facciamo un attimo la distinzione tra trader e analista tecnico, che spesso si confondono le due cose. Il trader, l'abbiamo visto ieri nel webinar di trader professionista con Matteo Ross, il trader è colui che opera sui mercati, colui che esegue gli ordini, colui che mette anche i propri soldi in gioco, oppure se lavora per fondi, mette i soldi del fondo in gioco. L'analista tecnico invece è colui che analizza i mercati, produce dei report che poi fornisce ai gestori, piuttosto che ai trader, che poi prendono questi report e ci vanno a costruire sopra le operazioni. Quindi sono due figure professionali completamente diverse. L'analista analizza, il trader opera. È meglio uno, è meglio l'altra. Sono due cose completamente diverse, due lavori completamente diversi. Diciamo che per fare l'analista tecnico non bisogna essere dei trader, quindi forse è un po' più semplice l'analista tecnico, anche se poi l'analisi tecnica è gigantesca come materia, però l'analista tecnico può permettersi di non saper far trading, quindi può anche non essere un bravo trader. Dall'altra parte però, un bravo trader, soprattutto se lavora da solo, deve conoscere l'analisi dei mercati. Lo diceva ieri Ross, prima di tutto ho bisogno di formare dei bravi analisti, perché prima di tutto bisogna essere capaci di analizzare i mercati per poi tirar fuori e mettere in pratica la propria strategia e quindi operare sui mercati. Quindi si parte sempre, anche per chi vuole fare il trading, si parte sempre dall'analisi tecnica. Bisogna sapere analizzare i mercati. Se sbagliamo l'analisi, poi tutto quello che viene dopo è chiaramente sbagliato. Esatto, quindi permettimi di dire che abbiamo visto anche nel corso la nostra esperienza qui con i tantissimi studenti, che i migliori trader poi sono tutti analisti tecnici, perché un analista tecnico ha già delle ottime competenze di base per poter analizzare correttamente i mercati e poi coniugandoci un'ulteriore formazione, lato quindi di gestione del rischio, di approccio strategico, quindi completando la formazione dell'analista tecnico è più semplice diventare dei bravi trader. Quello assolutamente, l'abbiamo visto, abbiamo esempi pratici a raffica. Ed è anche un po' lo stesso Matteo Rossi, che facciamo sempre con i docenti, che ci dice, guardate, i migliori studenti del mio master sono quelli che prima hanno fatto il master di analista tecnico perché sono molto più preparati, anche se arrivano gli altri che non hanno fatto il master e dicono di sapere l'analisi tecnica, ma in realtà non la sanno perché hanno visto qualche video così, ma non vuol dire sapere davvero l'analisi tecnica. Sergio, se no mi ti appisoli. No, no, ci sono, ci sono. Ti faccio la prossima domanda che un po' va nel dettaglio di come può lavorare un analista tecnico, l'ha accennato Matteo, però insomma vorrei fartelo un po' dire da te le varie possibilità di lavoro che può avere un analista. Allora, diciamo, Matteo ha esposto quello che è già il lavoro magari presso una società terza, quindi dove fornisce delle analisi, dei report, quindi si potrebbe dire già un profilo di un analista tecnico che ha già una sufficiente esperienza, già una sufficiente carriera avviata, ma ci sono in realtà anche delle opportunità per un analista tecnico magari con un profilo, diciamo così, iniziale, un profilo junior, no? Ci sono anche annunci di lavoro, come vedremo poi nel corso del webinar, che richiedono proprio dei profili junior direttamente, ma sostanzialmente le opportunità possono anche essere dal punto di vista formazione e informazione. dico sempre che, faccio sempre l'esempio del neolaureato, la persona che ha appena preso la laurea o che la sta addirittura prendendo, no? Che qual è la prima cosa che fa? Si mette a dare lezioni private, sostanzialmente, di quello che sta studiando. Quindi allo stesso modo un analista tecnico, eventualmente anche agli inizi, può incominciare a fare delle analisi magari su alcuni gruppi, su testate giornalistiche online oppure che lavorano comunque nel campo della finanza, quindi ovviamente avendo l'abilità di scrivere, la capacità di scrivere o di montare un piccolo articolo in formato, per esempio, blog, questa è un'attività iniziale che permette all'analista tecnico di fare esperienza, esporsi, ma non prendersi magari la responsabilità, di generare già dei report per magari una società terza, ma allo stesso tempo progredire e andare avanti. E successivamente ci sono gli step più avanzati quali possono essere l'operatività per sé, l'operatività per terzi, la parte analitica che si può fare, come diceva appunto Matteo, per la società terza, e infine anche ricerca e sviluppo, perché non dimentichiamoci che i migliori analisti tecnici sono anche stati coloro che hanno scritto realmente delle pagine di storia proprio sui libri di analisi tecnica che noi tuttora studiamo, cioè il classico inventore delle bande di Bollinger, John Bollinger, è stato un grande analista tecnico che ha portato una nuova pagina, ha portato una nuova ricerca, un contributo all'analisi tecnica e questo viene ovviamente preso in considerazione, anche perché diventando analista tecnico entri nel mondo e nell'entourage di quello che sono tutte le possibilità di farti conoscere proprio in giro per il mondo, perché poi ci sono tutti gli eventi che vengono generati dall'aver preso una certificazione, eccetera, poi ognuno è libero di parteciparci o no, però sono tutte opportunità naturalmente di lavoro. Vi butto là anche un altro paio di spunti interessanti, il primo è quello di pensare al mercato della consulenza finanziaria indipendente, che è in fortissima crescita, sta nascendo praticamente adesso, stanno venendo fuori tantissimi, da quando hanno aperto l'albo, stanno venendo fuori tantissimi consulenti autonomi, singoli, ma anche tante società di consulenza finanziaria indipendente. Ecco, l'abbiamo ad esempio fatto noi, la Io Invest SCF, i consulenti che stanno sul mercato tutti i giorni a parlare con i clienti, però dicono, ma ascolta, io non ho il tempo per star lì a fare i report dei mercati, che non è il mio lavoro, stare a fare i report, perdere il tempo davanti a Bloomberg, queste cose, qui il lavoro del consulente è parlare con le persone, pianificare, conoscere il proprio cliente, gli obiettivi, le esigenze del cliente, quindi è molto relazionale, e non può stare dietro ai mercati, se sta dietro ai mercati non riesce a parlare con le persone, se non parla con le persone è disoccupato, quindi chiaramente tra le due deve scegliere per forza parlare con le persone, anche perché è quello il suo lavoro. E chi gli fa l'analisi dei mercati? Noi ad esempio, se io investo SCF, la prima cosa che abbiamo messo, dopo i primi consulenti, è l'ufficio studi, e l'ufficio studi, il primo che abbiamo inserito è stato Riccardo, che veniva dalla Mastercast, dal Master Analisi Tecnica, e analista tecnico, che aveva preso tutte le varie certificazioni, sapevamo che era bravo, l'abbiamo inserito nel team, adesso produce report e analisi, poi fa anche altri lavori dentro l'ufficio studi, però principalmente produce report ed analisi per i consulenti, che le richiedono, oppure quando io e Danilo dobbiamo fare i report mensili, a tutti i nostri clienti, chiediamo i report, a tutte le slide, le presentazioni, eccetera, a Riccardo, che ce le fornisce. Noi ce ne abbiamo bisogno, ma ce ne avranno bisogno anche tutti gli altri consulenti finanziari indipendenti, perché chi gliele fa, sai chi gliele fa altrimenti, e quindi quella lì potrebbe essere uno sbocco interessante, andare a collaborare con i propri consulenti finanziari indipendenti, o società di consulenza finanziaria indipendente, oppure, se uno invece vuole lavorare più che da dipendente, vuole lavorare più in autonomia, un altro spunto interessante è quello di dire, ok, sono un analista tecnico, ho queste certificazioni, attenzione a, sono importantissime qui le certificazioni, perché tutti possono aprire la propria pagina e dire, sono un analista tecnico, ma, in pochi sanno farla veramente, la conoscono davvero, l'analisi tecnica, quindi dire, io sono un analista tecnico, queste sono le mie certificazioni che attestano, dimostrano che io l'analisi tecnica la so, poi nel tempo avrete anche l'esperienza dalla parte vostra, però potrete a quel punto andare a produrre report, piuttosto che analisi, a singoli investitori, privati, istituzionali, che ve le vanno a richiedere, quindi fare newsletter, piuttosto che proprio report, dei servizi di reportistica, dei mercati finanziari, attraverso, insomma, le competenze o quello che imparate. Vi ho messo, così, un altro paio di spunti, sia per chi vuole lavorare in maniera autonoma, piuttosto che per chi vuole, insomma, andare ad avere più un rapporto di dipendenza con altre società. Andiamo a vedere, adesso, quanto guadagna un analista tecnico in media, chiaramente, non è per forza, non è per forza quello, cambia anche dal profilo, no? Quando uno inizia junior, chiaramente, se non avete esperienza, per forza di cose, siete junior, e poi, ovviamente, man mano che si matura la seniority, lo stipendio può andare ad aumentare. In Italia, lo stipendio medio è di 43 mila euro l'ordi all'anno, medio, parliamo, chiaramente, più poi ci possono esserci bonus o provisioni, lì, chiaramente, cambia dal, da contratto a contratto, passiamo da un livello, questa la fonte è Jobidu, non la vedo sulla slide, quindi ve la dico, è Jobidu, è portale di lavoro. E, la forchetta va dai 24 mila euro minimi, quindi per profili più junior, fino ai 90 mila euro, per man mano che aumenta la seniority, ovviamente poi cambia anche in base a dove uno lavora. All'estero, ad esempio in Svizzera, quindi vi riporto poi in mercato svizzero, perché noi ad esempio siamo qui in Svizzera, lo stipendio medio annuo è di 106 mila franchi, e in Svizzera lo sappiamo che comunque, tendenzialmente è più, anzi, non più che tendenzialmente, i stipendi sono ovviamente più alti, quindi per farvi vedere un po' di quello che, di quelli che sono gli stipendi, gli stipendi anche in Svizzera. Vi accenno anche un po', vi faccio vedere qualche opportunità lavorativa, che possono esserci a semplice ricerca di mercato sulle posizioni aperte da parte delle aziende, e qui siamo, qui abbiamo credit, quindi prese dai classici portali di lavoro, Equity Derivatives Quantitative Analyst, Credit Suisse, per un esempio, piuttosto che abbiamo un Technical Analyst che è ricercato a New York, qui il stipendio è anno dai 110 ai 141, e poi qui abbiamo ad esempio, in questo qui sono le richieste, i job posting che vengono pubblicati ad esempio all'interno del gruppo dove ci sono tutti gli associati della SIAT, che è la società italiana dell'analisi tecnica, e qui c'era ad esempio una richiesta di una posizione lavorativa per un analista tecnico finanziario junior e vedete attenzione come qui richiedevano proprio il diploma SIAT da analista tecnico, quindi il certificato SIAT da analista tecnico, poi vedremo che cos'è e come si fa per prenderlo, e poi qui ad esempio un'altra ricerca, un'altra richiesta per un analista tecnico finanziario, anche in questo caso era richiesto il diploma SIAT da analista tecnico finanziario come elemento preferenziale, quindi insomma avere le certificazioni comunque aiuta poi a distinguersi da un po' da tutti gli altri. Domanda? Scusa una cosa Ale, a precisare innanzitutto che questi dati dallo stipendio medio fino appunto agli annunci di lavoro sono presi di oggi, quindi adesso, in questo momento live, sono stati presi proprio oggi pomeriggio, questa mattina, aggiornati, quindi non sono slide del 2014 con i fotomontaggi, eccetera, le stesse cose che possiamo leggere, le potete leggere e trovare anche voi, è preciso naturalmente che si parla di analista tecnico finanziario, quindi non è che l'analista finanziario è una cosa e l'analista tecnico è un'altra, non è che l'analista finanziario non deve conoscere l'analista tecnico e il nome completo è proprio analista tecnico finanziario e deve conoscere assolutamente l'analisi tecnica, non è che uno finanziario conosce il mercato così per caso, anche perché l'analisi tecnica, questo dovrebbe chiarire, perché se uno sa cosa significa analisi tecnica non fa confusione, ma è ovvio che c'è un po' di confusione generale su questo, l'analista tecnico non è solo la persona che guarda il grafichetto e tira due righe, sono diversi campi, deve conoscere anche gli strumenti e il funzionamento dei mercati, quindi non è una cosa limitata all'osservazione di un grafico, questo ero per precisare. esatto, andiamo a vedere anche allora, voglio farvi scusate, due domande, ovviamente ve la faccio la stessa a tutti e due, domanda secca, quanto vi ha aiutato, visto che voi fate proprio trading anche a livello pratico, quindi siete dei trader, quanto vi ha aiutato l'analisi tecnica nel vostro approccio al trading? Faccio parlare prima a Matte che così ci cambiamo un attimo la parola. Allora, io l'ho sempre detto proprio da quando da quando sono partito con lo studio, all'inizio sono partito a studiarli in maniera in maniera autonoma, però ovviamente ho fatto e sottolineo proprio perché ora so, insomma, formo altri altri ragazzi, quando sono partito in maniera autonoma si fa tanta tanta fatica e poi nel corso degli anni sono andato a rivedere per forza di cose alcuni dettagli che magari prendendo informazioni e spunti su internet non erano proprio precisissimi perché come hai detto tu Ale, ovviamente una persona qualsiasi può aprire un blog dire che fa analisi tecniche e quindi mettersi a insegnare l'analisi tecnica però ovviamente se non ha certificazioni se non ha passato un esame per poter dimostrare che conosce quelle determinate cose in maniera precisa poi ovviamente le cose che trasmette possono essere sbagliate quindi ripeto quando sono partito io a livello d'autonomo per studiare ho fatto tanta fatica perché devi andarti a prendere le cose a destra e sinistra quindi uno fai più fatica due impieghi nettamente più tempo e tre per forza di cose poi devi ripassarci su determinate cose perché magari sono state informazioni spezzate o informazioni sbagliate io sono partito proprio direttamente con l'analisi tecnica perché sono partito molto molto giovane mi piaceva comunque il rischio mettiamola così perché uno quando si approccia al trading io approcciavo al trading dopo averlo visto in maniera cinematografica quindi c'era la figura del trader del floor che stava sui grafici comprava e cliccava e faceva vagonate di soldi poi ovviamente con il tempo e con l'esperienza ho capito che non era non era realmente così la professione del trader però mi sono avvicinato con quello mi sono avvicinato per quello e mi sono avvicinato quindi direttamente con il day trading nel day trading quindi nel fare trading in intraday l'analisi tecnica non è importante è vitale perché non possiamo andare a fare per forza di cose analisi fondamentale quindi andare a studiare i bilanci delle aziende per fare analisi e per fare i trading in intraday prima di tutto perché alcuni asset come possono essere gli indici le materie prime il forex non c'è un bilancio un fatturato da andare a analizzare se possiamo fare analisi macroeconomica ma è un altro discorso ancora per cui per andare a fare dei trading completo a 360 gradi quindi mi immagino per uno che inizia che ancora non ha una piena conoscenza di quelli che sono i mercati e quindi non ha ancora deciso quello che è il mercato su cui concentrarsi l'analisi tecnica ripeto è vitale perché perché ti permette costruendoci ovviamente un approccio strategico sopra con una corretta gestione del rischio di poter inizialmente andare a fare i trading su più mercati e poi l'analisi tecnica è l'unica da analisi facendo mettendolo a paragone con l'analisi fondamentale che ti fornisce quello che è il timing d'entrata e studiandoci appunto sopra un approccio strategico ti dà quelli che sono i setup perché andando a analizzare un'azienda dal punto di vista fondamentale come sappiamo l'azienda si può distaccare diciamo dal suo valore a livello di analisi fondamentale per tanto tempo e quindi non ci dice quando entrare all'interno del mercato il day trading è fondamentale è l'unica esatto dicevo proprio proprio quello nel day trading che lavori solo sui movimenti dei prezzi esatto forza analisi tecnica non c'è nient'altro che puoi fare sul lungo medio lungo termine approcci più lungo termine si può usare l'analisi tecnica per il timing se si usano le azioni ovviamente l'analisi fondamentale può aiutare per cercare di capire quelle che sono le migliori aziende ma poi l'analisi tecnica è fondamentale per il scusate il gioco di parole però per gli ingressi le uscite definire un po' le strategie operative Sergio ti faccio cambio domanda così non siamo ridondanti e ti chiedo per molti l'analisi tecnica è tirare quattro linee sui grafici e via siamo analisi tecnica andiamo a fare trading e perdiamo un sacco di soldi per l'analisi tecnica non funziona l'analisi tecnica non è soltanto tirare due linee a caso sui grafici ma racchiude diversi campi quali sono dici un po' che c'è dentro l'analisi tecnica allora diciamo che i campi più famosi dell'analisi tecnica sono i campi in realtà più superficiali o quelli proprio che balzano subito all'occhio ma in realtà la bellezza il fascino dell'analisi tecnica è andare dietro a questi a questi campi e andare a vedere che cosa c'è ovvero il grafico anche i nostri ragazzi quando arrivano circa a metà del corso che iniziano veramente a capire cosa c'è dietro un'analisi di candlesticks e quindi i legami per esempio con la psicologia già diventa una cosa molto più affascinante stimolante e illuminante quindi c'è tutto il campo dello studio del prezzo che già è il primo passo da fare quello di andare dietro al grafico dietro alla lettura del singolo prezzo dopodiché ci sono tutti i vari campi che possono essere ad esempio l'analisi del sentiment quindi andare ad analizzare una serie di indicatori dal punto di vista finanziario macroeconomico per far capire qual è l'aspettativa proprio degli operatori per esempio di borsa abbiamo diversi tipi di analisi di per esempio ampiezza quindi andiamo a capire se un mercato cresce se sta crescendo in modo salutare oppure se sta crescendo solamente perché una o poche componenti di quel mercato stanno sostenendo questo mercato questo ci può far capire se questo mercato sta scricchiolando oppure se è veramente sostenuto da tutto un po' la stessa situazione che è successa ottobre novembre col mercato americano che erano solo le aziende a larga capitalizzazione che tenevano su tutto eccetera ci sono almeno 7-8-9 campi più tutti quelli che vanno a svilupparsi e crescono e cambiano ogni anno e vengono integrati appunto nel campo dell'analisi tecnica quindi abbiamo anche l'analisi per quanto riguarda il ciclo economico l'analisi del flusso di capitali insomma ce ne sono davvero tanti e si toccano tutti e nel momento in cui prendi una certificazione di analista tecnico tu li conosci tutti quanti poi sei tu nell'arco della tua vita che ti focalizzi su quelle che sono le tue specializzazioni tant'è che tra i tanti analisti tecnici c'è quello più specializzato in uno strumento finanziario di un tipo di analisi quello che fa intraday allora è più specializzato magari dal punto di vista grafico quantitativo eccetera quindi e davvero non ci soffermiamo al discorso che vediamo magari la classica pubblicità fai questo con con due indicatori questa è l'analisi tecnica sei a posto uno lo prova ovviamente non funziona perché gli manca tutto un altro mondo di competenze dietro e dice che l'analisi tecnica non funziona no l'analisi tecnica è una categoria dove sotto ci sono appunto diversi campi di cui ognuno di essi è veramente un mondo a sé tant'è che anche fra di noi le lezioni c'è magari l'analista che è più specializzato in un argomento e fa quella lezione lì piuttosto che un'altra esatto c'è una stefano che dice non c'è richiesta è difficile trovare lavoro è difficile trovare lavoro se uno è ignorante come una scarpa rotta anche a me come arrivano io vorrei lavorare per la vostra società si siedono qua io grande tre grande analista eccetera c'è la differenza tra un'azione e un'obbligazione ma così è difficile cioè se uno è bravo ha tutte le carte in regola per essere un bravo analista tecnico finanziario la domanda c'è non solo in Italia ma anche fuori ce l'è più fuori ce l'è più all'estero questo è assolutamente assolutamente vero ma la domanda c'è c'è assolutamente tra l'altro c'è la possibilità anche di lavorare da soli a livello indipendente o come analista pensate che io ho iniziato proprio a parte facendo trading ma poi la mia carriera esterna diciamo a parte i miei soldi iniziato proprio come analista finanziario facevo i miei primi reportini producevo i miei primi report la mia prima applicazione eccetera quindi non è se uno lavora da solo lì ci sono soltanto soltanto opportunità e soprattutto dipende non dipende dagli altri ma dipende da noi quanto siamo bravi a fare il nostro il nostro lavoro e quindi questo andiamo a vedere un attimo per quanto riguarda le certificazioni perché uno dice ma certo se uno dice ma manda i curriculum e dice io sono un analista tecnico finanziario dove sta scritto? perché guarda qua che bel report oppure ma guarda qua che bel trade oppure so utilizzare trading view no cioè non esiste ci sono delle certificazioni e quindi è giusto andarle che certificano ovviamente il livello di competenze andiamo a vedere quali sono allora diciamo prendiamo due società italiana è la SIAT società italiana degli dell'analisi dell'analisi tecnica che è stata fondata nel 1986 quindi non ieri ma è dall'86 che c'è sul mercato e è l'unica associazione di categoria riconosciuta in Italia per quanto riguarda l'analisi tecnica ovviamente per entrare non è semplice bisogna superare bisogna superare un esame che va fatto tra l'altro i ragazzi della precedente edizione ci hanno proprio dopo domani l'esame esatto sono tantissimi super pronti per fare questo esame ne verranno fuori sicuramente diversi e come abbiamo visto poco fa nelle richieste di lavoro ve ne ho prese due ve ne ho prese c'era scritto diploma SIAT preferenziale piuttosto diploma SIAT requisito necessario proprio perché SIAT è riconosciuta a livello istituzionale ovviamente le società finanziarie che richiedono ricercano analisti tecnici li vogliono o vanno direttamente da SIAT a chiedergli c'è l'hai qualche associato che ha superato l'esame che puoi mandarmi oppure lo mettono proprio come richiesta perché sanno che devono aver fatto un esame io questo qui è il Certified SIAT Technical Analyst che è stato introdotto più tardi quindi vedete che ce l'ho dal 2019 in realtà sono entrato come socio aggregate che era il 2015 2016 vado a memoria vado e adesso sono socio professional piuttosto che anche membro del comitato scientifico è un'associazione no profit chiaramente che ha lo scopo di divulgare l'analisi tecnica quella vera ovviamente è corretta in Italia per tutti gli associati di SIAT ovviamente si distaccano dal certo room che c'è in giro dal quale prendiamo posizione perché ovviamente sono livelli di competenze completamente diversi perché per le persone è facile dire io faccio l'analisi tecnica è molto più difficile farsi esaminare e farsi valutare da chi effettivamente la utilizza nel proprio mestiere per il proprio lavoro altrimenti a livello internazionale abbiamo l'IFTA che è l'International Federation of Technical Analyst quindi la federazione internazionale degli analisti tecnici di cui tra l'altro la SIAT è una società membro quindi ogni paese questo a livello internazionale ogni paese poi ha la sua associazione di categoria e qui ci sono due livelli di certificazioni il CFTA che è il che è il Certified Financial Technician quindi analista tecnico finanziario certificato in questo caso a livello internazionale poi abbiamo il massimo livello dell'analisi tecnica a livello mondiale che si può ottenere che è l'MFTA quindi Master of Financial Technical Analysis questo qui è oltre un esame cioè non va affatto un esame risposta multipla o da compilare ma qui devi proprio portare tu un tuo elaborato personale che è un contributo supportato ovviamente da evidenza statistica che è un contributo nuovo all'analisi tecnica quindi devi creare qualcosa di nuovo nel campo dell'analisi tecnica che porta del valore delle novità questo qui io l'ho preso nel 2019 era 15 marzo 2019 quindi diventato MFTA in Italia sono stato il secondo italiano a prendere l'MFTA da sempre dal 1986 adesso non so se ce n'è stato qualcun altro nel frattempo ma eravamo in due al massimo saremo diventati tre mentre invece sono diventato Certified Financial Technician nel 2014 era l'anno in cui anche sono diventato socio aggregate della SIA quindi non nel 2015 ma il 2014 quindi di tempo sono passati ormai quasi quasi dieci anni e ovviamente questi 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 queste certificazioni mi hanno aiutato enormemente nel mio lavoro chiaramente per fare per lavorare con i miei soldi non serve c'è una certificazione sono automaticamente più bravo ma ovviamente nello sviluppare la mia attività lavorativa nel settore nel campo dell'analisi tecnica mi hanno chiaramente aperto delle porte delle porte incredibili oltre alle offerte di lavoro che ho ricevuto in questi anni che ho declinato ho declinato puntualmente perché ovviamente ho deciso di intraprendere poi una strada più più imprenditoriale e individuale ecco mi posso andare a lavorare per altre società ma questo qui è sono scelte personali ognuno è diverso non c'è un meglio o un peggio però bisogna partire da qualche da qualche cosa e avere un titolo di studio un titolo un certificato perché titolo di studio un certificato che attesti le proprie competenze all'interno di una di una disciplina ovviamente importante intanto perché ti rimane lì e ti rimane per sempre non te lo doi più nessuno e ti permette di distinguerti da tutti gli altri ovviamente anche quando ricerchi lavoro soprattutto se vai a ricercare lavoro ti aiuta chiaramente ti può dare dei punti dei punti in più ovviamente anche se lavori vuoi lavorare autonomamente ma produrre dei report di analisi che hanno a che fare con l'analisi dei mercati aiutano a dare o anche se uno vuole fare formazione vuole insegnare analisi tecnica sì però dimostra che hai delle competenze di analisi tecnica perché ripeto a fare il corsettino analisi tecnica sono capaci tutti ma poi fanno degli arrosti incredibili e le persone ci rimettono ci rimettono i soldi quindi ovviamente è anche un dovere nei confronti di un dovere etico nei confronti dei clienti studenti o clienti insomma dimostrare le proprie competenze sono in pochi che lo fanno e un motivo c'è perché effettivamente è difficile realizzare questi raggiungere questi questi traguardi o per chi vuole ragazzi diventare analista tecnico finanziario dentro la piattaforma Metasky che partirà che partirà nelle prossime settimane ma ormai siamo arrivati Sergio a che edizione siamo arrivati del nostro master di analista tecnico è il master primo master che abbiamo mai fatto quindi il nostro master storico questa che abbiamo fatto è finito adesso è stata la numero 8 quindi quella che partirà a breve sarà la numero 9 siamo arrivati alla nona edizione del nostro master analista tecnico quindi di strada ne abbiamo fatta abbiamo preparato più o meno Sergio tra l'altro voi siete stati i primi studenti della primaria della primissima edizione è quasi 300 facevamo i conti l'altro giorno 290 qualcosa siamo arrivati a circa 300 studenti preparati per poi aver preso anche l'esame e la certificazione della SIAT insomma di studenti di esperienza in questi anni ne abbiamo fatta di diversa quindi per chi vuole diventare una analista tecnico finanziaria c'è il master proprio dedicato realizzato realizzato da noi che tra l'altro in partenza adesso il 4 luglio quindi siamo ormai agli sgoccioli e è un master che è adatto sia per chi parte da zero non bisogna avere laurea in economia chiaramente se uno studiare economia un po' aiuta chiaramente ma chi parte da zero può farlo assolutamente assolutamente sì non facciamo la bomba atomica non facciamo la scienza infusa non facciamo niente di strano ecco si imparano ovviamente io dico impari ad apprendere tutta la tutta la cassetta degli attrezzi dell'analisi tecnica l'analisi tecnica sono tanti strumenti impariamo ad utilizzare tutti gli strumenti dell'analisi tecnica il martello il cacciavite le pinze e tutto il resto impariamo ad utilizzarli in maniera corretta perché tanti prendono prendono la penna per batterci i chiodi ma non funziona la penna certo se ci batti i chiodi non è la penna che non funziona sei tu che magari stai sbagliando ok quindi impariamo tutti gli strumenti ad utilizzarli soprattutto in maniera corretta prepariamo per le certificazioni SIAT e ed IFTA poi ci arriveremo nel dettaglio vi aiutiamo anche a dopo che abbiamo imparato tutta l'analisi tecnica cerchiamo di scaricare a terra quello che abbiamo imparato costruendo provando ad aiutarvi a farvi costruire la vostra personale strategia di training quindi ci sono proprio delle sessioni di laboratorio dove noi vi diamo le linee guida per costruire una strategia vi invitiamo a perlomeno riflettere su come buttare giù una strategia che abbia senso ovviamente poi vi aiutiamo vediamo dei feedback dove state sbagliando che cosa potete migliorare questo qui vi aiuta un po' a cercare di mettere in pratica scaricare tutto quello che avete a terra tutto quello che avete imparato lezioni ovviamente altamente pratiche ci sono tantissime esercitazioni che l'obiettivo è quello di mettervi nelle condizioni di superare gli esami di queste certificazioni e poi produrre anche qualcosa di pratico a livello di strategia e poi c'è assistenza continua all'interno di un gruppo Telegram dove appunto gli studenti possono interagire giornalmente quotidianamente con i docenti che in questo caso siamo io Matteo e Sergio che è quindi che siamo lì H24 quali sono gli obiettivi del master gli obiettivi del master sono diventare un analista tecnico vero analista tecnico che sappia utilizzare realmente l'analisi tecnica prendere la certificazione SIAT ed IFTA e crearsi la propria strategia di trading ovviamente l'ultimo se uno ci riesce bene altrimenti nelle sessioni in cui andiamo a parlare delle strategie che hanno degli elaborati che hanno prodotto gli studenti uno ovviamente può apprendere da tutto quello che realizzano gli altri studenti quindi se uno non ci riesce chiaramente può imparare dagli altri comunque sono esperienze altamente formative i docenti come detto siamo sia io che Matteo che Sergio tutti quanti analisti analisti tecnici SIAT io oltre ad analista tecnico SIAT sono analista tecnico SIAT professional quindi a livello un po' più alto tra l'altro qui anteprima Merletti e Cacciarelli sono candidati anche noi avremo laurea tra poco intanto sono candidati a soci professional della SIAT vedremo se il comitato scientifico li approverà però la candidatura è stata specialmente fatta quindi proprio in questi giorni sono sotto esame e oltretutto sono anche candidati quindi sono pronti e hanno già fatto l'iscrizione per la certificazione IFTA quindi per prendere le due certificazioni IFTA io ovviamente sono anche CFTA a livello internazionale però ci arriveranno anche i due ragazzotti qui che hanno comunque già formato nelle masterclass successive quindi in totale ne abbiamo fatti 300 loro che hanno contribuito soprattutto nelle ultime masterclass insomma 200 studenti li hanno già aiutati tra l'altro i risultati agli esami sono sempre tre più alti non perché grazie al cavolo dire così però i numeri sono quelli percentuali di superamento dell'esame altissimo altissimi e anche ovviamente media voti estremamente alta tra l'altro abbiamo Matteo che tu sei stato il più giovane yes il più giovane col voto più alto no il voto più alto no il secondo secondo voto più alto della storia il voto più alto è stato Paola mi sembra ci abbiamo avuto un punto un punto di scarto perché l'esame siate 120 domande io ho fatto 113 su 120 e Paola 114 su 120 esatto 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 la certificazione approfondiamo un attimo le certificazioni quindi vi prepariamo per sia la certificazione SIAT e anche per la certificazione IFTA il livello CFT quindi Certified Financial Technician per l'MFTA ovviamente dato che dovete produrre qualcosa di vostro di originale quando fate l'elaborato finale quindi la strategia se ci riuscite e riuscite a tirar fuori evidenza statistica anche della della strategia che portate che magari ci vuole più tempo ovviamente poi potete anche provare a candidarvi per l'MFTA però quello lì chiaramente io negli esami quando ci sono gli esami vi posso preparare vi prepariamo e le percentuali di superamento sono altissime anche i voti sono molto alti chiaramente per un elaborato in cui uno deve portare un contributo nuovo nel mondo dell'analisi tecnica vi dico noi vi mettiamo nelle condizioni vi do tutti i feedback per cercare di far bene il paper di organizzarlo bene però se non producete niente a livello personale di nuovo nel campo dell'analisi tecnica chiaramente non potrete prenderlo però gli strumenti ve li diamo tutti quanti poi magari uno ci arriva nel tempo io sono arrivato pensate avete visto CFT 2014 e l'MFTA nel 2020 2019 quindi sono passati cinque anni sono passati per cui ci vuole anche del tempo non è che lo fai dalla giornata domani però intanto vi spiego anche un po' vi spieghiamo nel dettaglio come cercare di fare al meglio questi due esami per prendere le certificazioni l'elaborato finale tutti i nostri master hanno anche un elaborato finale in questo caso l'elaborato finale qual è? è una strategia operativa quindi cercare di scaricare a terra quello che impariamo in una strategia operativa strategia operativa che se uno riesce a trovare a trovare la quadra e la porta e porta anche dell'evidenza statistica la potete utilizzare con i vostri soldi la potete utilizzare per metterla nel curriculum quando vi candidate per posti di lavoro insomma è comunque o la potete utilizzare per l'MFTA dell'IFTA insomma ha un bel ha un bel valore sarebbe un bel un bel risultato che tutti quanti vi portate dietro alla fine per sempre perché il mio tra virgolette elaborato finale mi ha permesso di prendere l'MFTA creare la mia strategia creare un po' tutto questo perché la nostra azienda è partita da me alla fine quindi dici il tuo elaborato finale ti ha dato qualcosa pure fare soldi non lo sottolinei però insomma esatto esatto assolutamente sì per voi ovviamente anche per altri questo è chiaro il carrier service tutti i nostri master adesso con la nuova piattaforma Metaskill quindi anche chi si iscriverà a questo master qui avranno il carrier service di Metaskill che cos'è il carrier service brevemente ti aiutiamo ad entrare nel mercato del lavoro non solo italiano ma anche svizzero dato che siamo una realtà una realtà svizzera sviluppiamo il nostro network di aziende anche in svizzera perché se qualcuno vuole insomma approcciarsi al mercato svizzero chiaramente le lingue anche qui sono importanti però sono alle competenze e la padronanza delle lingue che richiedono nel mercato svizzero ovviamente qui possiamo possiamo aiutare chiaramente non è una garanzia ma possiamo aiutare nel provare a trovare lavoro in Svizzera vi aiutiamo nella creazione del curriculum lettera di presentazione pura del profilo del profilo LinkedIn nel colloquio di lavoro come affrontare il colloquio di lavoro piuttosto che avete poi dei webinar in Silicon di supporto con i nostri HR specialist e un gruppo di studenti di tutti i nostri l'accesso ad un gruppo di tutti i nostri studenti che fanno i nostri master dove poi faremo dei workshop annuali dove ci incontriamo tutti quanti insieme tutti gli studenti dei vari master per poi confrontarvi raccontare e condividere le varie esperienze questo servizio è nuovo di Metaskill chiaramente la masterclass inizia il 4 luglio ma dura sei mesi ma per quando siete arrivati alla fine sarà già attivo quindi ve lo regaliamo compreso ovviamente anche per chi si iscrive si iscrive subito perché ce l'hanno chiesto ieri proprio nel webinar di Matteo Ross durata e modalità del master è in live streaming quindi sono oltre 80 lezioni online 80 ore di lezioni online e ci sono due giorni dal vivo di workshop nel workshop dal vivo qui a Mendriso in Svizzera nel nostro quartier generale che cosa avete? avete facciamo la simulazione il primo giorno simulazione esame SIAT e la prima parte dell'esame IFTA e poi la pomeriggio la correzione secondo giorno invece andiamo a fare la simulazione della seconda parte dell'esame IFTA che è abbastanza lunga e complessa e il pomeriggio andiamo a fare la correzione più la presentazione dei migliori elaborati che avete realizzato dura sei mesi più approfondimenti a sorpresa si sono sempre sorteggiati a sorpresa raccogliamo dai feed degli studenti quest'anno abbiamo avuto alcuni studenti particolarmente nerd ci hanno chiesto un approfondimento operativo sul book qualcosa addirittura sulle opzioni eccetera insomma abbiamo cercato di accontentare tutti ogni anno quindi dal vivo l'abbiamo fatto esatto questo è il nostro regalo finale mio e di Matteo personale arriva Stefano un commento di Stefano che non abbiamo pagato un massacattissimo che ti apre un mondo poi Sergio e Matteo sono bravissimi e preparatissimi come docenti confermo tanto che adesso mi fido ciecamente del loro operato io faccio solo alcune lezioni quelle mie proprio che non mollerò mai che sono quelle che mi piacciono che mi piacciono di più però per il resto riescono a fare davvero davvero molto bene ormai hanno fatto veramente tantissima esperienza in questo in questo campo gli obiettivi i nostri master hanno sempre gli obiettivi specifici quindi ci muoviamo per obiettivi obiettivi imparare tutta l'analisi tecnica per diventare analisti tecnici e prendere la certificazione SIAT IFTA primo livello CFTA magari se riusciamo poi anche l'MFTA e provare a sviluppare la nostra personale strategia di training anche lì se ci riusciamo quindi andiamo concreti su degli obiettivi specifici e a chi è adatto qualcuno potrebbe chiedere ma per me è adatto per me non è adatto è rivolto a chi ha la passione per i mercati se avete la passione per i mercati allora questo master fa per voi per chi vuole diventare un analista tecnico e prendere delle certificazioni quindi differenziarsi distinguersi a tutti gli altri crearsi chi vuole iniziare a crearsi una propria strategia di trading e chi vuole aumentare insomma le proprie le proprie skills nel campo del trading o dell'analisi tecnica non sono richieste lauree in economia aiutano potrebbero aiutare ma non sono assolutamente assolutamente richieste e io direi che che non è adatto se uno mi dice ma per chi invece non è adatto ovviamente direi che non è adatto per chi non ha la passione per i mercati finanziari perché giustamente se uno non ha il piacere di fare in generale poi qualsiasi qualsiasi lavoro se uno non ha il piacere di analizzare i mercati fare la lista la lista finanziaria sarebbe 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 un trauma ecco però questo qui credo che sia valido un po' per tutti per tutte le professioni se ci piacciono andiamo avanti lo facciamo per anni sempre con tanta voglia tanto entusiasmo e poi arrivano i risultati se non ci piace la materia e qualcuno ci obbliga a fare quel lavoro lì però lo facciamo contro voglia poco entusiasmo e non andiamo mai da nessuna parte quindi questo è molto è molto importante due parole sulla nostra scuola siamo siamo nati nel 2016 circa quindi ormai di esperienza di studenti ne abbiamo avuti in totale oltre 90.000 tra master e non master chiaramente questa è una foto all'interno del nostro headquarter scattata qualche qualche mese fa era un anno fa quasi una parte del nostro del nostro team siamo un'azienda quindi una scuola di formazione certificata ISO 9001 certificazione di qualità che attesta non ovviamente che diventerete miliardari con 100 euro con il trading no ma attesta e certifica la qualità dei nostri processi la qualità nei processi nella selezione dei docenti la qualità nell'assistenza dei nostri studenti sia prima che durante che dopo il percorso formativo quindi tutto quello che facciamo è procedurizzato tutte le procedure sono state revisionate appunto dal certificatore ISO 9001 che prima di dare questa certificazione che tra l'altro viene revisionata annualmente quindi ogni anno viene fatto l'audit per controllare se l'azienda rispetto a questi requisiti e appunto certifica insomma tutta la nostra la nostra attenzione al processo e soprattutto alla formazione e ai nostri studenti tra l'altro la revisione o l'audit del 2022 che abbiamo domani dopo domani quindi adesso siamo proprio in pieno audit per il rinnovo 2022-2023 di questa di questa certificazione e poi ovviamente andiamo a vedere anche il livello di studenti soddisfatti altissimi su Transpilot abbiamo direi che comunque possiamo proiettare direttamente i commenti in tempo reale come testimonianza e le posti non andate a ripassare guarda questi stanno qua guardare il webinar invece andate a ripassare abbiamo i nostri studenti attuali che commentano scrivono esatto stanno già tutti qui però insomma qui abbiamo preso un paio di screenshot ma li trovate tranquillamente su Transpilot su investo.com piuttosto che scuola di trading insomma in pensione su tutti i nostri brand avete i vari commenti esatto le varie recensioni se qualcuno per chi vuole iniziare ha un percorso per imparare l'analisi tecnica diventare un analista tecnico certificato questo è il momento migliore perché il 4 luglio parte la nona edizione inizia a luglio finisce a dicembre faremo il workshop dal vivo potete scannerizzare il QR code oppure vi metto in chat il link se state vedendo la registrazione il link lo trovate o scannerizzate il QR code anche se state vedendo la registrazione oppure lo trovate sotto in descrizione quindi aprite la descrizione c'è il link ci cliccate cliccando nel link o scannerizzando il QR code che cosa succede finite nella pagina dedicata al master dove trovate tutte le informazioni dettagliate e la possibilità di prenotare una call con uno dei nostri tutor nella call con il tutor il tutor vi farà delle domande per accertarvi che voi siate adatti al percorso ma anche che non è scontato che il master sia adatto alle vostre esigenze perché uno magari potrebbe avere delle esigenze diverse in quel caso il tutor vi aiuta nella decisione vi farà l'offerta economica perché cambia in base al numero di iscritti che ci sono stati prima di voi quindi dipende dal momento in cui fate la richiesta prima la fate ovviamente meno pagate quindi meglio è e poi voi dopo che vi fa l'offerta economica risponde a tutte le vostre domande è tutto chiaro siete liberi di accettare oppure no se accettate siete pagate siete a bordo il 4 luglio iniziamo oppure se non accettate amici come prima ci rivediamo alla prossima alla prossima edizione potete già iscrivervi se per qualcuno il 4 luglio è troppo vicino potete già candidarvi sempre lo stesso link per la masterclass numero 10 master numero 10 che inizia a gennaio 2023 gennaio 2023 inizia la decima edizione potete già candidarvi adesso pagate di meno ovviamente e avete la certezza di essere di essere dentro tra l'altro vi sblocchiamo anche anche dei contenuti che vi permettono di iniziare a studiare prima e quindi prepararvi al meglio per poi iniziare iniziare il master master che inizia ripeto il 4 luglio 2022 avete link in chat in descrizione oppure la possibilità di scannerizzare il QR code credo di aver detto tutto ragazzi se vi ho detto qualcosa c'è una domanda c'era una domanda di Francesco che chiedeva l'analisi tecnica va bene per una strategia multi day allora mi ricollego visto che abbiamo parlato di crearsi una propria strategia di trading noi di base per una questione di facilitazione nel fare i test con la piattaforma che useremo la impostiamo sul multi day però essendo trader se lavorandoci intraday quest'anno abbiamo come se in realtà tutti gli anni abbiamo sempre qualche studente che contemporaneamente frequenta o ha già frequentato dei corsi magari intraday che è interessato a unire le competenze quindi magari dice guarda Sergio Matteo che ne pensi c'ho sto spunto per questa strategia intraday vorrei migliorare eccetera e devo dire anche quest'anno abbiamo raccolto due insomma strategie intraday davvero davvero interessanti una basata sull'analisi volumetrica l'altra basata molto sull'approccio quantitativo eografico insomma quindi ci possiamo naturalmente anche a aprire ma chiaramente l'analisi tecnica è valida per tutti i time frame quindi sia time frame intraday che time frame multiday quindi assolutamente sì e tant'è che poi di base noi la impostiamo generalmente sul sul multiday quindi questo era per rispondere solo alla domanda di Francesco che si agganciava esatto giusto giusto bene così ragazzi allora siamo arrivati alla fine di questo di questo webinar sono sicuro che vi è stato sicuramente di aiuto e utile insomma per valutare questa professione magari tante cose non le sapevate a questo punto spero anche di vedervi nella prossima edizione la numero 9 che partirà il 4 luglio oppure nella 10 che partirà a gennaio 2023 è arrivata una domanda all'ultimo proprio scusate in all'ultimo secondo ragazzi scusate per la domanda ma il master di analista finanziario va bene anche per minorenni sì va bene anche per minorenni ma chiaramente l'acquisto deve essere fatto ovviamente da un genitore che iscrive paga e ci scrive insomma che poi lo farà lo farà il figlio frequenterà il master quindi questo però potete parlare direttamente poi con il tutor quindi nel link nella pagina potete fare la domanda per la call con il tutor e poi il tutor vi spiega tutto nel dettaglio ok perfetto Mattia niente ragazzi quindi grazie a tutti ci vediamo a questo punto nella prossima edizione del master analista tecnico finanziario in partenza al 4 luglio oppure nei prossimi webinar che seguiranno a partire dalla prossima settimana grazie Matteo grazie Sergio e un salutone a tutti ciao a tutti ciao grazie